Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet's Tube, continuano le old review e oggi vi voglio parlare del secondo capitolo di una delle serie romance che più preferisco, anzi di questa trilogia perché comunque sono tre libri più una novella che è collegata sempre a questo libro e questo appunto è in assoluto il mio preferito, sto parlando di questo. Niente regole di Emma Chase, questo appunto è il secondo della serie Sexy Lawyers Series che vi ricordo sono tutti romanzi autoconclusivi che sono comunque collegati tra di loro perché i tre protagonisti maschili ovvero Stanton, Jake e Brent che sarà il protagonista del terzo libro sono tutti e tre avvocati e lavorano penso più o meno comunque nello stesso ambito, anzi Stanton e Jake se non sbaglio lavorano tutti e tre nello stesso studio quindi di conseguenza sono molto amici, sono legati da una forte amicizia e quindi di conseguenza infatti qui faranno delle comparsate anche Stanton e Sofia che erano i protagonisti appunto di Amore Illegale. Come ho detto questo è il mio preferito perché i romanzi in cui ci sono le protagonisti femminili che hanno anche dei bambini al seguito e che riescono a sciogliere il cuore di ghiaccio del protagonista a me fanno impazzire. Intanto mi accingo a leggervi la trama. A Washington la vita per un avvocato può essere davvero difficile, lo sa bene Jake Baker che ha fama di essere un uomo freddo, insensibile e a tratti intimidatorio. Ma Jake si riconosce in questa descrizione e gli sa bene così, sa che è necessario soprattutto quando deve torchiare un testimone, non ama le complicazioni, per lui sono i fatti che contano e il cliente chiede di raccontare solo quelli, nient'altro. Non desidera diventare uno psicoterapeuta né un principe azzurro, finché a complicare la sua vita arrivano Chelsea McQuaid e i suoi sei nipoti orfani. Chelsea è troppo dolce, troppo innocente e bellissima e questo non è affatto un bene per Jake che cerca di rimanere professionale e distaccato di fronte a lei. Ma Chelsea ha bisogno di aiuti qualcuno che la aiuti e che la difenda e Jake conosce bene il suo mestiere. Bene, come avrete potuto capire la trama è tutto un programma. Jake infatti è abbastanza intimidatorio proprio perché lui non ha un passato tutte rose e fiori, anzi era un po' un mezzo delinquente. Io vi dico che questo romanzo l'ho letto appena uscito nel 2015, c'ho anche appunto l'autografo perché portai proprio questo a Rare che c'era la Emma Chase perché appunto è il mio preferito, insieme al volumone della Tangled Series, quella con Drew Evans per intenderci e Jake appunto era un mezzo delinquentello finché non ha conosciuto appunto dopo l'ennesima cazzata, non ha conosciuto questo giudice che invece di schiaffarlo in galera e buttare via la chiave ha visto qualcosa in lui e diciamo che se ne è preso cura, se ne è preso cura, spronandola a diventare una persona migliore e spronandola appunto a diventare un avvocato. Infatti Jake è un avvocato con le controballe, vorremmo tutti un avvocato così che ci difendano, infatti è un difensore, non è dell'accusa ma è un difensore. Ed è proprio grazie al suo lavoro che conosce Chelsea che appunto si è ritrovata con il fratello e la cognata che sono morti in un incidente, con questi sei bambini lei è stata appunto nominata da loro tutrice legale e poi mi sembra che hanno soltanto lei quindi di conseguenza li hanno affidati proprio a lei, forse avevano anche i nonni però appunto il fratello e la moglie li avevano affidati a lei proprio legalmente sul testamento se non mi ricordo male. Prendete quello che dico con le pinze perché come vi ho detto sono passati sei anni quindi abbiate pietà di me da quando l'ho letto, quindi non è che mi ricordo proprio tutto alla perfezione perché uno dei nipoti appunto, uno dei maschi, il maschio grande se non sbaglio proprio in reazione alla morte dei genitori continua a fare minchiate su minchiate e l'ennesima minchiata Chelsea ha bisogno di un avvocato e si rivolge appunto a Jake che decide appunto di difenderla a pro buono quindi vabbè chapeau per Jake perché comunque Chelsea non si poteva permettere un avvocato che lavora in uno studio prestigioso come Jake però lui decide appunto di aiutarla a pro buono e una cosa tira l'altra Jake e Chelsea entrano in contatto insomma instaurano un legame ma soprattutto la cosa bella è che Jake instaura un legame anche con i bambini lui che appunto ha avuto una famiglia che di famiglia non si può chiamare non ci ha mai creduto si ritrova catapultato in questa pazza famiglia chiamiamola così con questi ragazzini che sono uno più fantastico dell'altro si parte col grande poi c'è il piccolino che appunto la terza parola che impara è proprio il suo nome e poi naturalmente c'è anche la componente Chelsea che è un personaggio veramente carino veramente bello è una ragazza molto timida molto dolce molto innocente e quindi per un bad boy come Jake insomma il cuore di ghiaccio comincia a sciogliersi lentamente ma ci sono comunque sempre le insicurezze perché lui è sempre convinto e cazzo ne so delle famiglie invece proprio dimostra poi di essere un papà perché alla fine Chelsea dovrà crescere questi ragazzini perché anche i grandi comunque non è che sono grandissimi si ritrova ad essere un papà fantastico per questi bambini loro arrivano veramente ad adorarlo e a volerlo come papà quindi di conseguenza tutte le sue certezze si sgrettono e di conseguenza ti comincia anche un po' a cagare in mano se sei una persona come Jake e comincia a fare anche un po' di cavolatine come ho detto questo è il mio romanzo preferito della serie perché io adoro quando ci sono queste situazioni quando vedo il personaggio maschile imperturbabile io non voglio relazioni io non voglio famiglia nient'altro sciogliersi di fronte a quello che è veramente l'amore perché comunque io dico sempre i figli sono di chi li cresce e non di chi li fa quindi appunto vedere questi ragazzini che si sciolgono per lui e lui che si scioglie per loro arriva addirittura a un certo punto a mollare lavoro e tutto per assicurarsi che stanno bene quando arriva una specie di epidemia in casa loro e sono tutti a vomitare manco fossimo nell'esorcista e tutto quanto a chiedere consiglio anche a Stanton che comunque vi ricordo che aveva già una figlia quindi sa come curare i bambini da questo punto di vista infatti come avevo detto fanno delle comparsate anche Stanton e Sofia che diventerà amica anche di Chelsea e anche Brent comparirà che lui appunto qui è ancora lui qui deve ancora cascare nel trappolozzo della donna che ti incastra quindi lui è ancora spirito libero ancora mi faccio tutto 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 qualsiasi cosa si muova senza impegno senza niente senza illudere poi nessuno quella è la cosa più importante e Jake piano piano appunto si evolve comincia appunto a desiderare quasi di far parte di questa famiglia ma le sue insicurezze diciamo che lo mettono di tengo gli mettono sempre un po' un freno mentre Chelsea si dona completamente a lui senza riserve perché è cotta come una pera giustamente insomma arriva a conoscere effettivamente l'uomo che c'è dietro l'avvocato e a scioglierlo poi soprattutto nonostante lui la fa anche maturare un po' a Chelsea soprattutto da questo punto di vista e comunque Chelsea è giovane non è che è molto è più giovane di me cioè per dire credo che non abbia neanche 30 anni infatti lei aveva appena finito il college lei doveva iniziare a lavorare se non mi ricordo male e le succede appunto questa questa batosta cioè non ha neanche il tempo di elaborare la morte del fratello e della cognata che si ritrova con questi bambini che deve crescere occuparsi di loro proprio cascata dalle nuvole e giustamente trova in Jake anche un appiglio un amico un complice poi alla fine anche l'amore ecco diciamo Emma Chase veramente con questa storia secondo me ha dato il meglio di sé vi dirò la verità come ho detto è il mio preferito supera di gran lunga amore illegale anche il prossimo amore senza regole e infatti Jake è l'unico ad aver avuto una novella che segue appunto gli eventi di questo romanzo una novella breve che adesso ho un lapsus di come si chiama ma vi lascio poi al limite il link dell'acquisto in descrizione sia della novella che del libro perché veramente adesso ho un lapsus tremendo però c'è una novella ebook dedicata appunto che segue questa storia la storia di Jake e Chelsea quindi vuol dire che quello che ha avuto più successo semplicemente è anche il preferito della Emma Chase a mio parere praticamente è l'unico è l'unico che ha avuto una novella supplementare quindi di conseguenza facciamoci delle domande diamoci anche delle risposte 5 stelle per questo bellissimo romanzo appunto che è riverente entusiasmante caliente come sempre nei romanzi della Emma Chase frizzantissimo veramente spassosissimo con i bambini ma anche intenso profondo e davvero coinvolgente quindi se cercate tutte queste cose in una storia non fatevi scappare niente regole bene ora come sempre passiamo al giochino dell'estrattino che io ho già trovato già cui segno perché come sapete non voglio spoilerarvi troppo voglio giusto darvi quell'assaggio che vi incuriosisca e vi invoglia appunto a leggere il romanzo quindi bando alle ciance e cominciamo con la lettura poche ore più tardi dopo il permesso dei servizi sociali e una rapida comparsa davanti a un giudice indifferente Rory esce dal tribunale insieme a noi ecco Rory è il nipotino scapestrato ecco diciamo torniamo nel mio ufficio per raccogliere i suoi numerosi fratelli infatti purtroppo sono scena in cui affida una a Sophie Stanton una a un'altra persona una a un'altra ce li ha sparsi per l'ufficio bellissimo sembrano tutti felici di vederlo se gli affettuosi stupidi idioti le domande avide sul suo soggiorno in galera ne sono un'indicazione il cielo si è fatto buio quando riaccompagno Chelsea e il suo carico alla macchina mentre lei li fa salire e allaccia le cinture io aspetto accanto allo sportello del guidatore poi fa il giro e si ferma davanti a me con gli occhioni pieni di affetto e tenera gratitudine e io sono colpito di nuovo dalla levigata perfezione della sua pelle sotto la luce dei lampioni dannatamente fantastica da vicino noto l'adorabile spolverata di Eiffelidi sul nasino elegante e mi chiedo se non ne abbia altre sparse sul corpo farò una lenta e accurata ricerca per scoprirlo e sono proprio l'uomo adatto Chelsea si spinge i capelli dietro l'orecchio grazie Jake, grazie mille non so che cosa avrei zia Chelsea, sto morendo di fame possiamo andare da McDonald's lo sai che cosa ci mettono in quel cibo? nemmeno gli insetti lo mangerebbero sta zitto Raymond, non mi rovinare il fast food sta zitto tu no, sta zitto tu zia Chelsea aoooo ecco che un casino della madonna sti bambini che stanno a fa' non riesco a non ridere e mi chiedo se lei non abbia dei tappi alle orecchie Chelsea esala un sospiro dalle labbra perfette e sorridenti devo andare prima che comincino a mangiarsi a vicenda beh potrebbe essere una buona idea c'è da mangiare in abbondanza lei squadra la testa e sarà nel pick up poi abbassa il finestrino per dire grazie ancora sono in debito con te Jake da una pacca sulla fiancata delle pick up mentre lei si allontana lentamente sì, lo sei ed è un debito che non vedo l'ora di riscuotere presto cioè penso di avervi dato l'idea di com'è il romanzo questi bambini sono fantastici c'è poco a dire che casinisti comunque ecco appunto un estattino rapido rapido per darvi appunto penso l'idea di quella che sarà la storia quindi ve lo ribadisco se cercate una storia bella, divertente, hot, frizzante ma anche intensa, profonda e coinvolgente questo romanzo fa assolutamente per voi bene anche questa old review si conclude qui io spero che vi sia piaciuta e che vi stiano piacendo insomma queste recensioni di libri un po' più vecchiotti che magari non avete neanche mai sentito parlare e che ho recensito solo sul recensito non riesco più a parlare oggi sto veramente male veramente ragazzi stasera che sto girando non ce la faccio più infatti questo è l'ultimo video grazie a Dio di oggi da girare poi sono a posto per tutta la settimana vi stavo dicendo spero che vi siano piaciute questi come vi ho detto sono libri che ho recensito solo sul blog siccome alcuni di voi appunto il blog non sono neanche che esiste e mi hanno conosciuto solo qui sul canale ho pensato che fosse una bella idea anche portare questo genere di recensioni di questi libri un po' più vecchiotti magari anche per quelle persone che non ne hanno mai sentito parlare e che secondo me dovrebbero devono essere appunto messi in evidenza vi ricordo come sempre che in descrizione trovate il link di Amazon per l'acquisto vi lascio anche il link della novella così potete leggerli uno dietro l'altro perché anche la novella è veramente è corta ma veramente molto carina e molto frizzante anche quella poi trovate il link della pagina Facebook della mia amica Carol Carol Italia dedicata a The Walking Dead andateci e spaccate la di mi piace che adesso ad agosto ricominceremo appunto a fine agosto ricominceremo appunto con le live perché riparte The Walking Dead con l'ultima stagione il mio Instagram se volete appunto dare un'occhietta alle mie foto alle mie stories poi sempre aggiornata sulle varie attività del canale e se volete seguirmi mi fate molto contenta vi ricordo che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche sui nuovi video tenete sempre l'occo l'attenzione community comunque per tutti gli aggiornamenti del canale e trovare le live del momento preimpostate il giorno prima così potete impostare le pro memoria e non perdervele assolutamente ma se vi iscrivete e cliccate sulla campanella questo rischio non c'è se questo video vi è piaciuto mettetemi un bel pollice in su e fatemi sapere nei commenti se vi ho incuriosito o se avete letto il romanzo che cosa ne pensate se a voi è piaciuto o non vi è piaciuto o perché non vi è piaciuto ragazzi che dire io vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti peep